Ok ragazzi, si parte un altro progettino! Sì, allora, altro progettino dove andremo a rispolverare le nostre conoscenze scolastiche di dinamica dei fluidi, ma mi spiego meglio. Allora, l'idea è di creare l'impianto a goccia per l'orto di questa estate, dell'estate che verrà. L'estate sta finendo, quindi avete visto il taglio dell'erba, adesso si scava. Dobbiamo creare l'alloggio adesso per un contenitore da 600 litri e per uno da 1000 litri, quindi il metro è già piazzato adesso con la bomboletta, andiamo a tracciare i confini e poi si scaverà. Bene ragazzi, allora, giorno 1 finito perché il sole si sta abbassando, ma andiamo a vedere cosa è successo. Che voi siete rimasti, diciamo, all'inizio dei lavori e noi siamo andati avanti. Allora, qui abbiamo fatto una bella buchettina, quindi abbiamo smosso ultraterra, abbiamo messo queste mattonelle, che sono le stesse, che stanno anche nelle scalette dell'orto. E questo è il primo contenitore per l'acqua. Adesso ho riempito tipo quasi 300 litri, 250 via, perché se no il vento poi se lo porta via. Adesso bisognerà poi sistemare tutto il rubinetto e fare l'impianto a goccia, ma questo è. Arriverà sicuramente un altro contenitore, forse anche più grande, perché l'anno scorso ho visto che in un giorno mi servono circa 500 litri d'acqua per dare l'acqua a tutte le piantine. Quest'anno un pochino di più perché l'orto, spero, sarà più grande, quindi ci vediamo domani. Allora, buongiorno ragazzi, giorno 2, oggi un po' di frescolino, ho comprato i pali, questi sono i pali, di là ci sono le tavole che poi vedrete. Stiamo facendo il buco, dunque, qual è il film? Il film è, questo è il buco, abbiamo iniziato da circa 10 minuti e siamo arrivati qui. Tecnicamente in un'ora dovremmo fare un buco di un metro e mezzo, che a noi non serve, però era giusto così. Bene, i potenti mezzi messici a disposizione, messici? A disposizione abbiamo questo palo che, da una parte no, è così diciamo affilato, affilato per modo di dire, da quest'altra parte uguale, noi non andiamo a fare altro che hop, 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 e hop, e là, e giù. Così, per tutti e quattro i pali. Sì, 1, 2, 1, 2, hop, e, hop, e, buongiorno ragazzi, allora giorno 3, tecnicamente, e il lavoretto sta prendendo forma, ma andiamolo ad analizzare più nello specifico. Dunque, allora, questi sono i pali che abbiamo messo, chiaramente sono tutti storti, questo, vediamolo più nel dettaglio, però così non sembra, ma se tu lo guardi un po' così, si vede palesemente, no? Che è un po' storto. Però alla fine, per non aver preso nemmeno una livella, uno spago, niente, dai, ci accontentiamo. Adesso stiamo mettendo tutte le tavole qui sopra, tutte, nel senso, due, una di qua e una di là per dare un po' di stabilità. Adesso le metteremo tre, tutto a occhio, chiaramente, tutto a occhiometro. Adesso le metteremo altre tre e poi ci andiamo a avvitare sopra il tetto, che dobbiamo comprare perché quello che ho qui in casa non basta. Chiaramente non basta perché le misure che avevo preso, che non avevo preso, sono sbagliate. Allora, buongiorno ragazzi, giorno 3, 4, non so, ho perso il conto. Allora, i lavoretti proseguono. Abbiamo messo il tetto. Oggi dovrei finire, credo, di avvitare le ultime cosettine e via. Ok ragazzi, allora siamo qui, in alta quota, possiamo dirlo. Vi faccio vedere un attimino il tetto, come lo sto fissando. Il tetto, insomma, nel senso, vabbè, la copertura, come la sto fissando. Dunque, molto semplicemente sto mettendo tutte le viti con delle rondelle per far sì che la pressione della vite sia un attimino esercitata su una zona un po' più ampia. Questo perché? Perché la copertura che sto mettendo non è così tanto resistente al vento. Quindi la pressione della vite esercitata su una superficie un po' più ampia fa sì che non si strappi. solamente per questo. E si continuano ad avvitare e noi ci vediamo dopo. Bene ragazzi, allora ci siamo. Il lavoro è finito e adesso andiamo ad ammirarlo. Ola! Ma avviciniamoci e guardiamolo meglio. Allora ragazzi, partirei, diciamo, da destra a sinistra. Dunque, vabbè, una volta fissato il tetto, come avete visto prima, no? Tutte le viti, rondelle del caso, ok. Sono passato un attimino alle rifiniture perché, se vedete, non si muove più di tanto. Si muove poco, prima faccia uè, 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 ok. Quindi qui ho messo questa barra qua, no? Ci mettiamo qui, che è un po' più all'ombra. Ho messo questa tavola qui, che tecnicamente non serve a stabilizzare nulla. Però è comoda per appoggiare tutti gli attrezzetti. Nello specifico la pala, la mazza, le accette, il rastrello, la mazza, la sega, la mazza. Spostandoci dall'altra parte, vabbè, qui poi c'è il silos. Ciao, silos. Qui c'è il contenitore dell'acqua, che avete già visto. Andando a questa parte, qui abbiamo fatto un'operazione di stabilizzazione. Vedete, questa tavola e questa tavola hanno la funzione stabilizzatrice, così non si muove nulla, più o meno. Qui ho già cominciato a fare le prove, quindi ho trovato questo tubo che già avevo e l'attacco va bene, quindi dovremmo vedere solamente se perde. Un po' come la Francia, no? I mondiali del 2006. E per ora, ragazzi, il film è stato questo. Adesso qui dove sono io, qui ci andrà qualcos'altro. Canale, cose, dinamiche dei fluidi, quello è un'altra storia. Che dire, ragazzi? A questo punto vi ringrazio, come sempre, per essere stati con me. In questo bello progettino irriguo. Non so se l'aggettivo giusto irriguo, ma... Noi ci vediamo ovviamente nel prossimo video.